Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara con l'aggiornamento con le tendenze a medio e lungo termine. L'estate avrà ancora molto da dire sull'Italia anche nella terza decada di agosto. La nuova settimana infatti vedrà l'ennesima rimonta dell'anticiclone nordafricano sull'Italia, con caldo intenso soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Caldo anche al nord che tuttavia verrà di tanto in tanto lambite da infiltrazioni atlantiche legate a quest'ampia circolazione ciclonica sul nord Europa. Non mancherà dunque qualche nota instabile in primis sulle Alpi e sul Piemonte. La seconda parte della settimana potrebbe vedere invece un tempo più instabile al nord con qualche rovescio temporale anche di forte intensità per il parziale arretramento verso sud dell'anticiclone nordafricano, a immagini il centro mentre il sud continuerebbe a sperimentare le condizioni di caldo intenso. Ma per sapere il tempo previsto sulla tua località di veleggiatura o anche di casa, consultate l'app di Trabimetto gratuita per tablet e smartphone.